Un cagliere Un cagliere Ti bevierai cantando Con suore dentro canto Ho aspettato tanto, per stare con te. Sono tanto addestino a mio figlio, perché mi fanno bene. E poi di l'uggire dalla mia ossa, ho aspettato il cuore un cuore di cassa. A me passano sempre, a me lo voglio dire. Su, su, su. Oh 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 sono settimana dalla mattina alla sera con la sola adesso io abbiamo un altro servizio molto molto importante che è il servizio della boutique, si trova proprio accanto al Viro Camp dove vanno a giocare tutti quanti i bambini, dove potete trovare veramente di tutto, non è un centro commerciale ma quasi un centro commerciale in miniatura perché avete dimenticato il venticricio? l'abbiamo, avete bisogno dei giochi per i bambini per giocare nella siambia per giocare nella spiaggia per giocare, vicina l'abbiamo, vi servono dei vestitini eleganti, vi siete per il consumo da bagno c'è tutto, pure ragazzi prodotti per la pelle, prodotti per la barba signore signore un grandissimo applauso per la boutique mattina e pomeriggio boutique summer e adesso passiamo la parola ai nostri fantastici ragazzi ciao, grazie mille a tutti per essere qui speriamo di mortare ogni vostro momento vi aspettiamo al nostro negozio e mi raccomando, fatevi fotografare grazie Oscar, grazie Wanda ci veniamo più tardi ma bene amici, bene amiche adesso è il momento di cominciare vi devo presentare tutti gli animatori perché voi siete qua lo so che aspettate ma chi sarà la fitness la panterona del villaggio ma chi è che ci va a fare i torni sportivi e ve lo diciamo the welcome show grazie 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 a tutti 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 grazie a tutti